Salve a tutti, qui Divus che vi parla e vi dà il benvenuto a questo nuovo video dedicato alla lore di Destiny. Nell'episodio di oggi, come potete notare dal gameplay che passa di sottofondo, voglio parlarvi di un argomento che affonda le sue radici nel passato più remoto di Destiny, ma non tanto a livello di trama o di lore, ma per quanto riguarda invece lo sviluppo e soprattutto quel famosissimo super cut che sarebbe avvenuto nel 2013 che avrebbe poi stravolto completamente la trama di Destiny. Lasciando poi quel gioco che nel 2014 uscì sugli scaffali e sulle piattaforme che non soddisfò tutti proprio per una trama un po' debole. Perché vi parlo oggi di questo argomento? Perché me l'ha chiesto Francesco, ossia il vincitore dell'ultimo contest che ho fatto in live quando ho proposto una domanda a tema loristico e appunto Francesco è stato il primo a rispondere correttamente giudicandosi così il premio di poter scegliere l'argomento. E quindi eccoci qui a parlare dello super cut del 2013 della prima versione di Destiny realizzata da Staten. Come dicevo appunto siamo un anno prima dell'uscita di Destiny e vi è questa trama proposta da Staten che la propone sia da Activision che Bungie. Questa trama, a detta di coloro che l'hanno potuta vedere, era abbastanza articolata, complessa, con forti elementi mistici e metafisici, una sorta di gioco più fantasy o comunque in salsa Star Wars, cioè quel fantasy che si incarna nella fantascienza ma che alla fine mantiene importanti basi fantasy. Attenzione, non sto citando il fatto che Destiny inizialmente fosse un titolo al 100% fantasy, quello è uno script ancora precedente. Anche se già a titolo di fantascienza, comunque, nel 2013 la versione di Staten conteneva importanti elementi fantasy appunto metafisici. E proprio la presenza di questo aspetto un po' labirintico e complicato non piacque ad Activision, ma non piacque nemmeno a tutta Bungie. Insomma, una parte di Bungie non era poi così soddisfatta del lavoro di Staten. Questo va assolutamente sottolineato, perché quindi significa che non fu solo Activision a bocciare questa prima versione più complicata, ma forse anche più affascinante di Destiny, ma anche parte di Bungie, e quindi la colpa va un po' spartita. Comunque, fatto sta che questa versione venne bocciata, come ben sappiamo, ma alcuni sprazzi sono comunque sopravvissuti e quindi possiamo un po' ricostruire quello che sarebbe stata la struttura generale di questa primissima versione di Destiny. Sappiamo per certo che un terzo, più o meno, della trama sarebbe ruotata attorno alla figura di Rasputin, la mente bellica che abbiamo imparato a conoscere un po' in Destiny 1 e molto in Destiny 2. Rasputin tuttavia non sarebbe stato un semplice super computer con dei mega bunker e una palla rossa fluttuante. Sarebbe stata una presenza un po' più fisica, incarnata in una sorta di Exo, probabilmente suo avatar oppure proprio sua incarnazione in tutti i sensi, che avremmo dovuto salvare dalle grinfie dell'alveare. Infatti questo Rasputin exo si sarebbe trovato su una gigantesca nave dell'alveare che molto probabilmente altri non sarebbe che l'astro corazzata, che quindi sarebbe comparsa nella trama di Destiny ben prima del 2014, ben prima del re dei corrotti, andando quindi a riscrivere una buona parte della narrazione del primo capitolo. Fatto sta che comunque noi dobbiamo salvare questo Rasputin, avremmo dovuto salvare questo Rasputin a bordo dell'astro corazzata e secondo alcuni quel concept di un Exo appoggiato al muro che riposa completamente sporco di sangue, altri non sarebbe che un concept proprio della primissima versione di Rasputin. Però insomma il dubbio non può essere sciolto, ma è abbastanza suggestivo pensare che effettivamente quello fosse il primo Rasputin. Ma non solo Rasputin, nella trama infatti avremmo dovuto incontrare anche Osiride, un personaggio che abbiamo atteso tantissimo per poter incontrare perché anche questo l'abbiamo incontrato solo in Destiny 2. Comunque Osiride sarebbe stata una figura simile a Obi-Wan Kenobi per rimanere sempre in campo guerre stellari, ossia un mentore saggio, anziano, un ex guerriero capace ma ormai un po' attempato che ci avrebbe condotto su una strada particolare di addestramento. Il tutto si sarebbe svolto su Mercurio, all'interno di un tempio un po' in stile egizio, un po' in stile Vex, come è del resto lo stile del culto di Osiride, e qui noi guardiani ci saremmo formati e saremmo diventati qualcosa di molto più capace, oltre a scoprire dei segreti importanti sulla natura dell'universo. Ma per raggiungere Osiride nel suo luogo di ritiro, saremmo stati aiutati da un'altra figura che abbiamo imparato a conoscere nella Lord i Destiny, ossia il Corvo. E qui compare una strana ambiguità riguardo la figura del Corvo. Infatti, secondo alcuni insider o coloro che hanno voluto rivelare un po' i dettagli, il Corvo non sarebbe stato subito Uldren Sov, che adesso è il Corvo nella nostra versione di Destiny, ma sarebbe stata una figura più simile a Cade. Non so se proprio Exo, forse diciamo Uldren Sov come design, ma con il carattere di Cade, quindi un po' più scanzonato, meno serioso rispetto a Uldren. Fatto sta che comunque con l'aiuto del Corvo e delle sue capacità di spia, perché sarebbe comunque stato una grande spia, un grande ricognitore, saremmo riusciti a raggiungere Osiride, il quale poi ci avrebbe sverato un segreto sulla natura dell'oratore e del viaggiatore. Perché, secondo voci insistenti nel primo cut di Destiny, sia l'oratore che il viaggiatore sarebbero stati dei personaggi alla fine poco limpidi. L'oratore sarebbe stato una sorta di manipolatore che sfruttava la sua presunta capacità di parlare con il viaggiatore solo per ottenere potere. Il viaggiatore invece sarebbe stato anche lui alla fine un manipolatore, ma soprattutto dedito a innalzare le civiltà per farne delle personali armate da lanciare contro l'oscurità. Il tutto condito da più filosofia, più metafisica, più trascendentalismo, il tutto per arrivare probabilmente a una conclusione in cui si capiva che il bene e il male veramente non esistono, ma sono questioni di punti di vista, visto che il viaggiatore, che sembrava un salvatore, si sarebbe poi rivelato un nemico, un mostro, una creatura comunque malevola, non capace di aiutare gratuitamente. Ci sarebbero poi stati altri elementi sparsi probabilmente in questa trama. Come location si parlava comunque della Terra, della Luna, Marte e Venere. Probabilmente ci sarebbe stato appunto anche Mercurio come luogo dove incontrare Osiride. Non sappiamo se poi all'interno di questi pianeti fossero presenti altri location. Secondo alcuni che hanno provato a ricostruire cosa è successo con la trama di Destiny, le location che abbiamo visto effettivamente in Destiny avrebbero ospitato anche gli eventi della prima trama di Destiny. Anzi, alcune cut in alcuni pezzi sarebbero stati proprio ripresi dal primo cut, Niccolò di Staten, rimaneggiati, rimpastati e trasformati nella versione che abbiamo avuto nel 2014. Quindi un rimpasto strano anche di cut sin di cose. In tutto questo non sappiamo il ruolo di altri personaggi. Comunque diciamo che la trama base ci avrebbe proposto molte più personalità influenti sin da subito, visto che in realtà nella trama base di Destiny abbiamo avuto incontri miseri e gli unici incontri che abbiamo avuto sono stati quelli con l'ignota Exo, che poi si è rivelato un personaggio incredibilmente sfuggente, quasi impossibile da inquadrare e che poi è stato trattato malissimo, a mio avviso, da Bungie perché non è riuscita più a recuperare qualcosa su questo personaggio che quindi è rimasto sullo sfondo a marcire in definitiva. Ora ovviamente c'è la domanda da un milione di dollari, ma quindi questo cut, questa versione, questa trama proposta da Staten era migliore di quella che abbiamo avuto? Allora a mio avviso sarebbe stata assolutamente migliore di quella che abbiamo avuto in Destiny base. Perché quella in Destiny base è una trama molto lineare, molto sciocca e molto sbrigativa. Forse non sarebbe piaciuto a tutti, come giustamente diceva anche Bungie, per la sua complessità. Magari risultava troppo articogolata, troppo complessa, troppo carica di misticismo sul concetto della luce. Secondo me avrebbe ripreso quel guazzabuio complicato del sogno di Alfa Lupi, con tutto il suo valore simbolico, la geomanzia, la geometria sacra, il simbolismo gnostico, come abbiamo parlato io e Gabriele Cuscino in una serie di articoli che trovate sul sito di C7K Group, magari ve li metto anche in descrizione. Insomma, sarebbe stato un bel mix di elementi un po' difficile da accogliere per tutti. Però questa debolezza di contenere elementi complessi, intricati e intriganti poteva essere anche un valore, nel senso che avrebbe spinto gli appassionati di lore a approfondire il titolo, gli avrebbe dato una carattura completamente diversa in un certo senso, magari meno orientata al mero gameplay e più orientata su una trama massiccia. Forse, da un certo punto di vista, avrebbe anche giocato contro, perché appunto il grande pubblico non avrebbe apprezzato, ma sicuramente un gruppetto di persone che magari ne trenavano altre avrebbe sicuramente approfondito gli aspetti più enigmatici della trama. In tutto questo, quindi, Staten aveva osato troppo? Forse sì, creando una trama troppo mistica appunto. Mi riservo una riflessione sul fatto che forse Bungie avrebbe potuto in qualche modo preservare qualcosa della versione voluta da Staten. Capisco che si è dovuto semplificare, ma i pilastri narrativi, come la presenza di Osiride, la presenza di Rasputin, la presenza del Corvo, sarebbero potuti rimanere. Così come il fatto che il viaggiatore non fosse poi così limpido e nemmeno l'oratore, che poi sono sempre un po' rimasti di sottofondo, di sfondo, nella versione finale di Destiny. Ancora oggi ci chiediamo se l'oratore fosse malvagio, perché non è detto che sapesse parlare effettivamente con il viaggiatore, come abbiamo visto nella Cinematic con Gaul, eccetera. Però è un peccato che appunto non abbiano voluto approfondire questi aspetti e abbiano voluto dimenticare certi spunti o diluirli eccessivamente per creare più contenuti dilazionati nel tempo. Questo, ragazzi, è grosso modo tutto quello che c'è da dire in sintesi sulla versione di Staten. Se ne potrebbe parlare davvero lungo, ci sono diversi elementi interessanti, però il fungo della trama è quello che vi ho detto. Tra l'altro è bello notare che in alcuni concept, come ho già citato quello dell'Exo, qualcosa della trama originale di Staten emerge ancora, l'interno del viaggiatore, mondi che non abbiamo ancora visto, le già citate navi a piramide che comparivano ben prima di Destiny 2, eccetera. Insomma, qualcosa di quella prima versione ancora riecheggia nell'attuale Destiny, soprattutto attraverso gli artwork, soprattutto attraverso le informazioni che circolano ancora riguardo quella embrionale trama che poi non viene mai sfruttata a dovere. Come al solito vi lascio con due domande. La prima è mi sarebbe piaciuto poter vedere in azione quella prima trama di Staten, magari più enigmatica di altre, ad esempio si parlava anche della presenza della famosa giardiniera, qui magari dedicherò un video come Ancella del viaggiatore, eccetera. Seconda domanda, se poteste anche solo prendere un aspetto di quella trama e portarlo nella nostra, quale scegliereste? E perché proprio Osiride come mentore e non come personaggio inutile? No ragazzi, scherzo, nel senso, però la figura di Osiride come fu scritta da Staten sarebbe stata infinitamente invenio di quella che ci hanno propinato con la maledizione di Osiride. Ciò detto, mi appresto a chiudere se non finiamo più. Vi ringrazio per l'attenzione. Se vi è piaciuto il video vi invito ad iscrivervi al mio canale Lorenzo Divus, alla mia pagina Facebook sempre Lorenzo Divus e perché no anche il mio profilo Instagram sempre Lorenzo Divus. Vi ringrazio e ci vediamo a un prossimo video. Ciao a tutti!